Malvezzi quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. L'effetto della flat tax delle partite IVA individuali non è quello di favorire un lavoratore autonomo rispetto a un lavoratore dipendente, a parità di reddito lordo, al netto di tasse e contributi. Anche se i primi godono di un netto disponibile maggiore poiché sia il costo del lavoro sia la tassazione sono completamente diversi. In realtà l'effetto della flat tax delle partite IVA ditte individuali è quello di tendere verso una scelta più appetibile allo scopo di non farsi assumere come dipendente e di fatturare come partita IVA quello che per il datore di lavoro sarebbe stato comunque il suo costo. Ora la domanda è secondo voi è giusto che un sistema in cui a fronte di tutele minori, e la partita IVA non ne dà per definizione, al lavoratore prestatore, a parità di costo per il datore committente, rimanga un reddito netto disponibile maggiore? È singolare che non siano d'accordo tutti coloro che dicono che il lavoro a tempo determinato deve costare di più di quello a tempo indeterminato. Una cosa certa ed è che il lavoro a tempo indeterminato garantisce al lavoratore un percorso di stabilità e di certezza ed è per questo che la legge utilizza lo strumento del costo del lavoro per incoraggiare le imprese ad assumere utilizzando il contratto di lavoro a tempo indeterminato rendendo il costo del lavoro degli altri contratti più alto. Ora di tutta questa storia a me preme sostanzialmente darvi soltanto un concetto molto semplice. Chi è questo? In Italia c'è ormai una cultura contraria all'economia. In Italia c'è ormai una cultura in cui bisogna vessare il piccolo imprenditore, il micro imprenditore. In Italia c'è una cultura che è diventata una cultura di invidia, una cultura di sospetto, di caccia alle streghe, non capendo che per mantenere tutto quell'elefantiaco apparato burocratico, che ama tanto lo smart working e che quando tu telefoni alle 11 del mattino ti rispondono un attimo che sto accendendo il computer. Ebbene ci vuole qualcuno che paghi e quel qualcuno che paga in Italia sono i piccoli imprenditori, i micro imprenditori, le partite IVA, i liberi professionisti. Questa è la verità. Voi direte è ma lei è di parte. Esattamente perché sono un cretino e non sa da che parte stare. E io sto dalla parte di quelli che in Italia producono il reddito, pagano le tasse e sono sempre gli ultimi della classifica. E poi vengono anche giudicati sotto il profilo morale. Se noi non difendiamo le piccole micro imprese l'Italia muore. Buona economia umanistica. Malvezzi quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.